Cosa è la inqu ricca? Oh, 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 ina prà, dove stavi? Dove stavi? Eh, ho stato dell'affanatore Allora, per spieghi, io so sempre quello che arriva in ritardo, come mai oggi sei arrivato in ritardo? Sindona, ce l'avevo da fare, devo fare una cosa Ce l'avevo da fare? Sì Ce l'avevo da fare? Eh, che stanno, i soggetti? Sono cose intime, no? Non è che ti posso venire a fare Allora, ieri si era mai fatto Iò, io vado a dormire Poi, appena è girato l'angolo, ho visto che arriva quella biondona E seppo Vabbè, sì, comunque Sì, dimmi che te le devo dire, ma poi non è che mi deve evitare, ma dimmelo, 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 state calmo, non so via che ansia ho, ma io voglio sapere, lo sai bravo, in modo lo racconto, non è che mi viene a fare così, che è sto, il tukatuka sta ballando, e allora oh, vabbè niente, allora lo sai che mi devo raccontare, no? Stavo, sto detto vado a dormire, bravo a dormire, invece non sono andato a dormire, dove sei andato, scusa vai, perché quando ho girato l'angolo, per gli alloggi, no? Via Vanna dell'Orsi? Ehi tazzista, me li fa raccontare, va bene, ho girato l'angolo e c'è stava, c'è stava una alta, bionda, due, bella, una tedesca, una tedesca, ma bella, e ho scoperto caro mio che le tedesche, e i tedeschi pure, tutti i tedeschi, stanno vent'anni avanti rispetto a noi, beh, se Dio vuole, fra vent'anni raggiungemo, no? Sì, certo, è arrivato, vabbè comunque lasciamo perdere, dimmi, allora ho visto sta tedesca, eh, che hai fatto, che hai fatto, mi piaceva, poi mi guardava bene, eh, quindi, 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 beh vai raccontare, vai, vai raccontare, allora mi guardava un po', io sto mancato, mi sto allupato un attimo, siccome io mastico un po' di tedesco, no? Sì, no, tu mastici, mi devi, io ho detto, alle scale fare, non sfilare un strunz, alle scale navi, non sfilare un strunz, scusa, ma io il tedesco non mastico perché mi si rimpaccia, senti, vabbè, vabbè, queste battute come al solito, vabbè, vabbè, no, mi spieghi che gli hai detto, ma è facile, vuol dire, vuoi venire a fare un giro in camera mia con me? Cioè, scusa, tu con una bionda tedesca sei andato a fare un giro dentro camera tua, c'hai messo il letto qua, il comodino, poi facevi tutti i giretti, ma perché, ma perché, ma poi ridono pure, ma c'è, vabbè, sì, fatto così, prima ho fatto un giretto, e poi, niente, e poi? Vabbè, niente, poi niente, lei, 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 lei mi ha risposto, mi ha risposto, mi ha detto, alle scale fare, non sfilare un strunz, quindi, che ha detto? Va bene, ah, non sfilare un strunz, va bene, non sfilare un strunz, non sfilare un strunz, è un strunz, va bene, vabbè, niente, stiamo andati a braccetto, stiamo andati, oh, non gli ho dovuto offrire, né la cena, né da beve, né, niente, non ho spagato niente, infatti c'ho un sacco di tante, vabbè, sto proprio in caffè, meno male, vai, non gli ho dovuto offrire niente, 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 tu proviamo, andate in camera, andate in camera, andate in camera, allora stiamo andati, hai portato il psicologo, spero, andate in camera, ma che è, stai così camminando, io, il massimo che sto andato è Spolino, 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 20 minuti, eh? Vabbè, insomma, sono andati in albergo, in albergo, sono andati qua accanto, no? Allora, siamo entrati, siamo entrati subito nella stanza, spam con la porta, spam con la porta, mi hai fatto male? No, non gli ho dato la teglia, a teglia, non faccio la porta, spam, la porta, e l'ho schiaffato, l'ho schiaffato sul letto, sto molto nomadopeico, sto tirando, e l'ho schiaffato sul letto, questo è tutto, wow, wow, se hai strappato, oh, sto a fare i versi, fammi fare i versi, no? Vabbè, vabbè, se hai strappato tutti i vestiti, e sai, è rimasta in mutande e reggiseno di Pizzo, ma no, ma come intimissimi l'ha fatta? Non lo d kork tutto, no? Vabbè, assalto se hai sette poste a diritto, con queste mani roguine, sia strappato di a diritto, mi sono scappata da mutande, mi sono magnato le mutande! Perché sobbiamo? Non ho pa смaciate, però vabbè, ha smaglialmente, e su un letto inizia all'erotismo inizia a toccà all'eccata inizia a toccà a me inizia a toccà a me inizia a toccà lei mi fa stop mentre sto muovo a crudicare stop a me piace fare amore con tuoni ma se non c'era manco una nuova appunto come stasera era non c'è stata una nuova non c'è stata manco l'idea dei tuoni e quindi come hai fatto? quindi mi sono inventato i tuoni ti sei inventato i tuoni? ma per chi mi ha preso? eeeh scusa e con la puzza come hai fatto? ma che puzza? ma che puzza? ma se io ti metti a fare la puzza a tossa la gente mica come lo faccio io beh scusa io se ti mi dicono inventa i tuoni io vado a mangiare una scatoletta dei fagioli ecco frizzante e poi e poi la puzza come fai? scusa eh? non lo so stavo chiesto a te non lo fa non l'ho fatto ah come hai fatto? come hai fatto? c'era il secchio sono una colpa sono una faina allora qui c'è stato il letto qua c'è stato il comodino ho avvicinato il comodino ho aperto l'ultimo cassettino ho aperto l'ultimo cassettino ho aperto il cassettino e col piede facevo e tum e tum lo aprivo e lo chiudevo effetto tuono e tum e tum ah quindi allora fammi tante volte mi capita pure a me allora c'è ho già la tua esperienza dalla mia parte bravo apro l'ultimo cassetto mi faccio e tum e tum bravo se apre si richiude il cassetto ah 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 e tum e tum e fa effetto tuono ma non fa è uguale eh? fa uguale e rimbomba con l'allo a buio si apiti sulla grotta era saccia a buio ma che ne vuoi sapere? ma che ne vuoi sapere? vabbè ho aperto sto sto e tum e tum e continuavo e tum 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 e patapim 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 patapam inizia ancora più c'era uooo spas stuccar uooo uooo fa un son fa un son stop altra volta a me piace fare amore con lampi i lampi voleva i lampi se non c'era mancola nuova lo so che non c'era mancola nuova e quindi le si è inventato anche il lampi l'ho inventato pure i lampi ah ho capito come hai fatto questa lo so hai preso l'iphone le si è messo così e la scatta iphone ma che non c'ho un telefono a 19 euro e 90 ma che iphone? è l'unico con il flash il flash mi sono inventato i lampi e con la puzza com'è tanto? ma che puzza? ma che fai? i lampi pure fa la puzza non fa la puzza io faccio il scoreggio strano si con il flash con il flash a viso la cazzo spagnola no niente ho preso i lampi i lampi è semplice non è che c'è stata questa tre ore sul comodino c'è stava la bajur la bajur la bajur la bajur ho preso la bajur la bajur la bajur la bajur l'ho avvicinata e che fai con l'interruttorino quello? no un ciù 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 come si è? a clic fai un pulcino e clic e clic e clic e io lo facevo col pugno e clic e clac accendi e spegni aaaah accendi e spegni la luce effetto l'ampo quindi allora quindi sopra al comodino che c'è prova e clic e clac e clic e clac e c'è un pozzo mobile bravo clic e clac effetto lampo accendi e spegni la luce però vi devo ricordare che fa pure i tuoni e quindi eucum e clic e clac e Clic e clac e such e du mud e tu dico e suspect e mo chè? astua astua Fxi a me piace fare camoche con pioggia madonna pura pioggia ma ora che faccio? ma se non c'era ancora nulla lo so non c'era ancora nulla se accademo o showi come hai fatto? non fa hai iniziato a spuvargli addosso Ma che stai a cima? Non è che sei volgare, sono detto che i fedesi stanno avanti e noi stiamo indietro perché l'italiano si toglierà un po' la tarantella, ci credo, fanno sempre figure così, no? I romani sono coatti, sempre uguali la figura, no? E' più leggera come cosa, e' delicata, e' come rompe... Ma non posso fare una domanda? Ecco, la puzza? Come hai fatto? Ma che puzza, ma che puzza! Ho preso, faccio, ho preso una bacinella d'acqua, l'ho riempita d'acqua... Tu ce l'avevi la bacinella? Nel bagno, ho preso una bacinella a pota, l'ho riempita d'acqua... Calda, fredda... Tiepida... Tiepida... La bacinella, l'ho messa a sinistra del letto, e facevo con la mano... E ciaffe, ciaffe... Ah, quindi tu ho detto un ton clic e paffe e paffe... Si, paffe e paffe, i buffi... Ma che c'è? Ciaffe e ciaffe, e' una leggera pioggerellina l'acqua, l'ha preso... Ma io perchè paffe e paffe... Ma se te fa discorsi come i balene, no? E ciaffe, ciaffe, e' delicato... Ah, posso provare? E' delicatissimo... E' delicatissimo, senti... E' preso una bacinella, acqua tiepida... E' messo lì la mano qua, dentro l'acqua... E ciaffe e ciaffe... Ma non e' così, ma che stai? Spalmare la Nutella? Adesso voglio di un mio bimbanino e spalmi la Nutella... Ma che stai? E ciaffe... E ciaffe... Devi flettere le dita, le palanze... Che sono i palanze, dai freddi... E' messo anche non ce l'ho le palanze... Ma sono le dita, le palanze! Che non c'hai? Queste sono le palanze, queste! Ma questi so' i diti... Sì, vabbè, sì, quello che c'hai... I tuoi diti tuoi... E ciaffe e ciaffe... Sempre di veloce. Un'altra volta, io stavo da un cazzotto in testa. Gli ho detto, stop! A me piace fare amore con vento. Ma pure il vento. Scusa, guarda un po' che tocca farci per fare una bella trucca. Detti se c'è nei bambini. A me piace fare amore con vento. E ho capito, devo porti da casa il vento. Ma non ho capito. Ma se non c'era nemmeno una nuola. Oddio. Ma hai chiesto? Lo so che ci stai almeno. E io stavo rosicato come un porco. Hai capito? E come puzza? Come hai fatto? Ma che puzza? Il vento fa i loffe. E pure i genfudi e i loffe. Ma che schifo? Questa era nata da già la duone, no? Vabbè erano tre ore che stavo la con sto vento e i duoni. Anche non aveva combinato niente. Però stavo lì, lì, stavo proprio... Guardi, ero prontissimo. Come stai? Mi sono inventato pure il vento. Grande, bravo, sei proprio un grande. Era facile, era facile. Vento, cosa fai? Gli... Alidi. Ma te sei gli alidi. Se gli alidi spengono tutto il calzare che sto rimasto. Con scirocco si sta andando bene. Con che? Con scirocco. Con scirocco. No, scirocco. Il vento caldo del... Vabbè... Niente... Niente... Che è sta roba? Che schifo! Vabbè, niente... Io... Un leggero soffio... Un leggero soffio... E' più... E' più... E' più... E' più... E' più... Che schifo! Ma che è sta roba? Con sta lingua... Che bevano... E' più... E' più... E' più... Un leggero venticello fa i capelli, capito? E' più... E' più... Vabbè, posso provare? Prova. Mi hai detto... E' più... Senza lingua! Che farei un... E' più... E' più... E' più... E' più... Ma che c'hai? E' più... E' più... E' più... E' più... E' più... E' più... Vabbè, è uguale. Prova... Che ti sei dov oceanica? I tuoni... I lampi... Il vento! Tutto insieme! E' più... E' più... E... E' più... Sempre più di veloce... E' più... E' più... E' più... E' più... E' più... E' più... E' plus... E' più... Onw... E' più... E' più...